Ciao a tutti da Vittorio, nel video di oggi pomeriggio non ho citato Toma Basic, non l'ho citato perché me ne sono dimenticato perché non ha fatto una grande partita, ma perché volevo un po' approfondire il discorso sul ragazzo in un video a parte, per cui oggi adesso parliamo di Basic. Uno dei giocatori che si è distinto di più in questa Europa League è sicuramente Toma Basic, giocatore arrivato dalla Francia che in campionato, soprattutto all'inizio, stava giocando poco, trova soprattutto spazio in Europa League ed è secondo me un giocatore molto molto interessante, un giocatore che può ricoprire più ruoli perché può fare l'interno destro e l'interno sinistro, è un giocatore fisicamente ben messo e questa è una qualità importante, ma anche dinamico e con ottimi piedi. Insomma, mi sembra l'esempio del centromampista moderno che, bisogna essere onesti, un po' in casa Lazio mancava, perché con quelle caratteristiche la Lazio ha solo Sergei Minico e Savic. Sono doti importanti soprattutto in Champions League dove il fisico fa la differenza. In Champions League bisogna essere molto veloci, ma anche fisicamente possenti, forti, per poter reggere lo scontro con squadre come penso a quelle inglesi, ma anche quelle tedesche, eccetera, che fisicamente sono di solito ben messe. E questa è una caratteristica che la Lazio non ha tantissimo, perché Luisa Alberto, Leiva, Cataldi, se volete anche H-Pro, sono fisicamente, certo, non degli armadi. E, per esempio, contro la Juve, una delle cose che si è vista è che la Juve magari non ha grandi giocatori di qualità, però ha giocatori come Rabiot che sono fisicamente forti e che ti possono fare la differenza da quel punto di vista. Ecco, Basic, secondo me, è un giocatore molto utile, molto importante ed è soprattutto un giocatore europeo, se mi passate il termine, ovvero un giocatore che in Europa può veramente fare la differenza. In un calcio dove conta molto la dinamicità e il fisico, Basic è un giocatore che veramente ha queste caratteristiche. Non è un caso che sta giocando meglio in Europa League che in campionato, non è un caso che in Europa League ha anche fatto il primo gol e non è un caso che, secondo me, Sarri lo sta utilizzando, soprattutto lì. Anche contro la Lokomotiv, a mio avviso, ha fatto un'ottima partita. Un'ottima partita leggermente differente da quella che siamo abituati a vedere, perché, per esempio, avevamo visto contro la Lokomotiv che è bravissima ad inserirsi. Ha fatto un gol di testa, ma era stato più volte pericoloso, cosa che era successo anche contro Marsiglia in casa, ve lo ricordate? Nel primo tempo, Basic, ha avuto tre buone occasioni che non è riuscito a trasformare. Nel primo tempo, soprattutto contro Lokomotiv, ieri sera, Basic è stato importante, soprattutto in fase difensiva. Evidentemente Lokomotiv aveva studiato la Lazio, aveva studiato il calciatore e aveva capito che per tenerlo lontano dall'area di rigore propria doveva spingere su quella fascia per costringere Basic alla fase difensiva. Va detto che Basic lo ha fatto e l'ha fatto anche bene, ha recuperato tanti palloni, la Lokomotiv comunque ieri ha fatto solo un tiro in porta dalla distanza, ottima parata di Stracoscia, e quindi abbiamo potuto ammirare Basic anche in un'altra versione, probabilmente non quella preferita, perché a mio avviso questo giocatore è un giocatore box to box, come si dice in Inghilterra, un giocatore che è bravissimo ad inserirsi e questa è un'altra qualità che in questa Lazio manca, perché il centrocampo della Lazio è sicuramente di grande qualità, però soprattutto quando giochi con Cataldi, Luisa Alberto e Milinkovic, sia Cataldi sia Luisa Alberto non sono due centrocampisti bravi di inserirsi da dietro, per cui questo fa sì che molto spesso Ciro Immobile sia da solo in area di rigore. Basic è un altro giocatore bravo ad inserirsi, bravo a dare una mano in avanti e quindi è un giocatore che può essere molto utile alla Lazio. E' vero, probabilmente quest'estate serviva più un viceleva che un altro centrocampista interno, però anche è vero che Basic è un giocatore di qualità e quando puoi prendere un giocatore di quella qualità, beh, te ne freghi tra virgolette delle necessità della squadra, vai a prendere il miglior giocatore che puoi prendere. E Basic, secondo me, è un innesto importante. E' un innesto importante perché, a differenza di ACPA Pro, quando gioca la qualità della Lazio, del centrocampo della Lazio, non scende. E questo è un altro dato importante. Importante perché, abbiamo visto, nelle ultime partite dell'Europa League, Sarri ha potuto far riposare a turno Luisa Alberto e Milinkovic, inserendo Basic, e senza che la qualità della Lazio scendesse. Contro Marseilla, la Lazio ha dominato, non è riuscita a vincere, ma c'era Basic titolare. Anche contro Lokomotiv, con Basic titolare, la Lazio ha dominato a centrocampo e portato a casa la partita. Una statistica, ieri la Lazio ha avuto il 64% di possesso palla. Questo la dice lunga sul dominio a centrocampo della Lazio. Dominio è avvenuto con, prima Milinkovic Savic in panchina, poi quando è uscito Luisa Alberto è entrato Milinkovic Savic con Luisa Alberto in panchina. Per cui i due, diciamo, centrocampisti più forti si sono alternati con Basic titolare. Ha conferma che Basic può sicuramente reggere il confronto con gli altri e dare qualità al centrocampo e far riposare Milinkovic Savic e Luisa Alberto. E questa è una nota importantissima perché, e se pensate al passato, ve lo ricorderete benissimo, anche voi siamo spesso arrivati a fine stagione, dico maggio o aprile eccetera, con Luisa Alberto distrutto stanchissimo perché con Simone Zaghi giocava anche le amichevoli. Adesso con Basic Sarri ha tante opzioni e il giocatore che magari in campionato non sta giocando tantissimo però dà la possibilità a Sarri di far rifiatare Milinkovic Savic e Luisa Alberto e questa è una delle cose più importanti per questo gruppo perché se Ciro Immobile riposa pochissimo perché al momento Murici non è considerato un'alternativa, beh, con Basic Sarri alternativa a centrocampo ce l'ha. Alternativa importante perché per esempio prima giocava a Capapro che è un bravo ragazzo, è dinamico, però non ha il fisico di Basic e non ha i piedi di Basic. Con Basic la Lazio può far riposare uno dei due talenti senza aver timore di perdere qualità a centrocampo e questo è un dato importante per cui sì, probabilmente si poteva andare a prendere un viceleva anche se adesso Cataldi sta giocando e anche abbastanza bene però l'acquisto di Basic è sicuramente un colpo anche in prospettiva molto molto buono fatto dalla Lazio. Grazie a tutti.